Una pattuglia del Servizio di Pubblica Utilità 117 delle Fiamme Gialle di Eboli, nel corso di un'attività di controllo del territorio, ha proceduto al fermo amministrativo di un'autovettura Porsche Panamera, perché guidata da persona cui era stata revocata la patente. Al responsabile, noto venditore di auto ebolitano, oltre alle ganache, l'autovettura con targa estera, è stata combinata una sanzione pari a 3.000 euro. La stessa persona, nei giorni precedenti, era già stata controllata a bordo di un'attività di grossa cilindrata, sempre con targa estera, parimenti bloccata ai sensi di legge.